Ciao a tutti! Oggi vi farò vedere come realizzare il girasole in pasta di zucchero. Ci servirà la pasta di zucchero gialla e della pasta di zucchero verde scuro o marroni. Iniziamo con lo stendere la pasta di zucchero gialla. E prendere questo stampino a forma di girasole a punto e fare la forma. Questa sarà la nostra base del girasole. Ora prendiamo questo attrezzo qua e schiacciamo piano tutti i petali del girasole. Ora prendiamo la pasta di zucchero. Ora prendiamo la pasta di zucchero verde e dobbiamo formare un cerchio da posizionare al centro. Ora prendiamo la pasta di zucchero. Ora prendiamo la pasta di zucchero. Ora prendiamo la pasta di zucchero. di cacao. Lo schiacciamo un po' al centro e prendiamo il cacao. Mettiamo la colla alimentare tutta sopra la superficie del cerchio di pasta di zucchero e ci mettiamo sopra il cacao. E schiacciamo ben bene per far aderire tutto il cacao. Dopo aver fatto il cerchio di cacao lo posizioniamo sopra il girasole. Solita colla alimentare al centro e poi ci posizioniamo il cerchio. Allora, il girasole potrebbe essere completato anche così. Però io sul girasole della torta avevo fatto delle sfumature con del colorante arancione e del colorante giallo. Praticamente ho mischiato i due coloranti, poi con il pennello sono andata a sfumare vicino il cerchio e anche un po' lì fuori. Comunque sia, vi lascio la foto del girasole vecchio con le sfumature. Come vedete è semplicissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!